Teatro alla Scala, nuovo licenziamento nel caso Biglietti. Nuovo capitolo nel caso dei Biglietti che vede protagonista il Teatro alla Scala di Milano. E' stato licenziato un terzo dipendente che ha prestato servizio in biglietteria nel giro di pochi mesi. E in questo caso, come spiega il Corriere della Sera, si tratta tra l'altro del marito della ex responsabile del settore Biglietti, Annalisa Severnini. Il problema è il seguente, alcuni dipendenti del reparto Biglietteria, prima dell'apertura della vendita per il pubblico, cedevano alle agenzie blocchi di biglietti. I biglietti sfilati entravano nella disponibilità dei siti di secondari ticketing a prezzi maggiorati. Si attende chiaramente l'esito di quanto accadrà in tribunale, visto che il primo licenziato, spiega sempre il Corriere, avrebbe depositato una memoria con riferimenti al personale del teatro. Grazie a tutti.